Concerto di musica operistica diretto da Ferruccio Scaglia, con la partecipazione del mezzo soprano Giovanna Fioroni e del tenore Gino De Iulis. Orchestra Sinfonica di Milano della Radiotelevisione Italiana, in programma musiche di Wolf Ferrari, Masnè, Mozart, Donizetti, Bellini, Verdi, Rossini e Cilea. Tombe degli avi miei, Ariatto III, tenore Gino De Iulis. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ombbe degli avi miei, l'ultimo avanzo d'una stirpa infelice, un vero accogliere d'oi. Gesso dell'ira il breve fuoco, un nemico acciaro abbandonò il vivo. Per me la vita è ormai sopeto, non è vero, non è vero, per me senza buia. Mi facci tutta via, mi facci tutta via, splende il castello, carcia una notte al tripugno. Ingrata donna, mentre io mi struggo, il disperato pianto, tu ridi e sulti accanto, al felice consorce. Tu, delle gioia in seno, tu, delle gioia in seno, tu, delle gioia in seno. La morte. 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 Lungi da lei, romanzo atto secondo, tenore Gino de Iulis. Lungi da lei, per me non va di letto, volarono già tre lune, da che la mia violenza agì per me la so, doviti e amori, e le pompose peste, ova gli omaggi a mezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Lungi da lei, per me non va di letto, volò gli omaggi a mezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Lungi da lei, per me non va di letto, volò gli omaggi a mezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Lungi da lei, per me non va di letto, volò gli omaggi a mezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Lungi da lei, per me non va di letto, volò gli omaggi a mezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Lungi da lei, per me non va di letto, volò gli omaggi a mezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Dell'universo in memore, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in cielo. Io vivo quasi in cielo. Abbiamo trasmesso la romanza Lungi da lei, dal secondo atto della traviata di Verdi.